Buongiorno e benvenuti a tutti. 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 Con il dibattito che c'è all'interno del governo, con il PD che lo vorrebbe e il Movimento 5 Stelle invece no, questi i temi del giorno. Cominciamo la lettura e partiamo con la stampa, la stampa di Torino che a differenza degli altri giornali e forse una delle poche eccezioni è che quest'oggi non apre sul Covid ma apre su quello che sta accadendo nel mondo bancario. E andiamo a leggere perché. E' preparato un piano con migliaia di tagli al personale un po' in tutte le filiali d'Europa. Andiamo avanti ancora con questo titolo perché si parla anche d'Europa appunto. Messe e 5 Stelle litigano sul Siela Riforma, recovery scontro sulla cabina di regia. Andiamo a leggere gli approfondimenti, il commento di Francesco Guerrera, stato banchiere e debito sovrano e ancora il retroscena sui fondi europei, tutti contro Conte. Giuseppe Conte, andiamo a leggere, andrà in Europa con una maggioranza spezzata su Messe e Recovery Fund. Il 9 dicembre lo che è italiano alla riforma del salva Stato dovrà essere scritto nero su bianco in una risoluzione che sarà votata in Parlamento. E ancora dalla prima pagina della stampa andiamo di spalla sulla sinistra verso il nuovo DPCM. Regioni all'attacco, allentare i blocchi almeno a Natale, ma il governo dice no. L'analisi di Antonella Viola, vaccini in arrivo, paesi in ritardo e ancora la polemica. Lo shopping vive, la scuola muore. Qui ovviamente nel discorso che la scuola è chiusa e si fa didattica a distanza, ai negozi invece ci sono state delle foto ecco con degli assembramenti lungo le strade per lo shopping. Buongiorno aggiungo io perché che la scuola stia in condizioni devastate già da anni, adesso servono e bastano. Delle foto sui social di persone che vanno lecitamente a fare dello shopping, perché è ancora consentito farlo, diventa un qualcosa da mettere a paragone come mele, pere, cavoli e carne. Ancora andiamo a vedere, di spalla sulla destra, muro di goma dall'Egitto, Regioni, rabbia e dolore, ora basta richiamate l'ambasciatore dal Cairo. I genitori di Giulio Regioni qui ne hanno ben dondo, dato che dopo la chiusura delle indagini preliminari da parte della procura italiana, la procura egiziana ha detto che per loro il caso è chiuso, sarebbe stato praticamente intercettato da una banda, non meglio specificata, di farabutti locali che avrebbero fatto le stesse cose anche con altri cittadini stranieri e quindi hanno detto loro che non c'era niente di sospetto e adesso i genitori di Giulio Regioni, dato che tutte le prove raccolte fin qui ovviamente dicono altro, ovvero che sia stato un omicidio quello di Giulio Regioni organizzato ben a più alti livelli e che coinvolgono anche delle posizioni importanti all'interno dell'Egitto stesso, chiedono di ritirare l'ambasciatore. Ricordiamo che pochi mesi fa addirittura l'Italia ha venduto all'Egitto delle navi militari, delle fregate militari, quindi facendo capire che anche su queste questioni diplomatiche e di orgoglio italiano, perché qui troviamo un paese che non vuole far luce sulla morte di un nostro connazionale, tutta la politica, maggioranza ed opposizione, per quanto riguarda Regioni, ecco, ci passano sopra e preferiscono fare altro. Andiamo avanti, ancora in taglio centrale, a Huawei ci chiesero di spiare e copiare il rivale americano, l'inchiesta che arriva dall'estero, andiamo a leggere poi di spalla sulla destra, l'Italia e il divorzio e le nuove libertà. Andiamo avanti dalla stampa, passiamo alla prima pagina della Repubblica. Prima pagina della Repubblica che parte su questi nuovi dati che riguardano la povertà, perché, andiamo a leggere, 5 milioni di nuovi poveri, la pandemia inasprisce la crisi, in tutto oltre 14 milioni di italiani costretti a vivere in gravi difficoltà economiche, spostamenti vietati a Natale, allo studio norme per non lasciare soli gli anziani, scontro con i governatori sullo sci. Con il sì del governo Conte l'Europa approva la riforma del MES. Vediamo ancora quei diritti negati e più deboli, il commento di Linda Laura Sabadini e ancora in taglio centrale, Ursula von der Leyen promossa, nonostante gli scivoloni, un anno di von der Leyen alla guida dell'Unione Europea. Andiamo poi di spalla sulla destra, svolta Onycredit, lascia Mustier, titolo giù del 5%, l'operazione MPS che ha diviso l'amministratore delegato dalla banca. Quindi anche qui danno, come la stampa, la stessa spiegazione di quanto è accaduto a Jean-Pierre Mustier. Vediamo in taglio alto, Reggeni, doppio processo, uno a Roma, l'altro al Cairo. La famiglia dice dall'Egitto un'altra ferita. La cosa bella è che a Roma si terrà un processo con imputati 5 agenti egiziani, che mai si vedranno ovviamente, a Roma un'altra al Cairo, ma è stato contro i gnoti per assassino. Questa è la barzelletta che sta venendo fuori purtroppo dalla vicenda di Giulio Reggeni. Ditemi voi se questi possano essere due processi seri in tutto ciò. Ovviamente nulla hanno a che fare con questo i procuratori e gli investigatori che hanno fatto anzi un grande lavoro. Quelli italiani ovviamente. Continuiamo a leggere, andiamo a vedere in taglio basso. Stefani Frappà, prima donna arbitro in Champions per Juve e Dinamo Kiev. E con taglio basso sulla destra, le idee di Eugenio Scalfari. E quando io si separò da Dioniso, la seduzione del barbiere nel teatro deserto di Corraudo Augas. Dalla Repubblica noi andiamo alla prima pagina del Corriere della Sera, che si prepara al Natale a questo nuovo problema riguardante la settimana bianca, ma soprattutto non è la settimana bianca in sé, bensì la tenuta economica di tutte le attività connesse allo sci. Leggiamo allora dal Corriere della Sera. Chiusi gli alberghi in montagna. Natale, la stretta del governo, nuove regole sulla quarantena per chi andrà all'estero. Tensione con le regioni sulle restrizioni, imprese e partite IVA verranno cancellati 5,3 miliardi di tasse sospese. Insomma, avete sentito, qui è importante, cancellati non rimandati. Vuol dire che si tirerà una linea. Effettivamente, se si continuano ad accumulare delle tasse che vengono rimandate dal governo, prima o poi bisognerà pagarle. Ecco, di sicuro non ci saranno i soldi per farlo. Vediamo l'approfondimento. Ilaria Capua, per battere il virus uniamo le scienze e ancora quel sogno infranto dei farmaci anti-covid, delle cure ed i risultati. Quindi qui si parla, diciamo, delle cure che hanno avuto più successo a livello anche social. Tutti i medici da social che potevano dare, senza averla mai vista, senza sapere neanche di cosa si parlasse, l'attendibilità e l'efficacia di una cura piuttosto che di un'altra. Niente plasmi perimmune, niente idrossiclorochina, non dà risultati neppure remdesivir. Quindi restano i cortisonici e le eparine. Continuiamo sulla destra. Le favole, vediamo Silvio Berlusconi. Berlusconi in veste principe azzurro che va a risvegliare dalla sua teca Giuseppe Conte in versione biancaneve. Eccolo qui. Poi l'intervista al ministro Luigi Di Maio. Il rimpasto temo di più i veti sul recovery. Quindi così gli chiedono se verrà fatto un rimpasto di governo. Lui risponde, penso, ai voti in Europa sul recovery fund, dove ovviamente si vota in tutt'altro contesto. L'Egitto gela l'Italia. Reggeni, prove scarse. Il killer resta ignoto. I genitori dicono un oltraggio. Ancora la Dio di Mustier svolta in Unicredit, già avviata alla ricerca del successore. Andiamo a leggere in la foto. La francese Stephanie Frappac, 36 anni, primo arbitro donna a dirigere una gara di Champions, l'esordio con la Juve, la prima donna arbitro per la Juve in Champions contro la Dinamo Kiev. Taglio basso. I ragazzini che uccidono a 14 e 15 anni. Monza, la vittima, 42 anni, è stata colpita con 20 coltellati, il movente della droga, anche se secondo le ultime indiscrezioni gli inquirenti avrebbero detto che questo movente non sembra sufficiente per quanto poi è accaduto, quindi sarebbero indagando anche su altre piste. Comunque, sempre in taglio basso, sentirsi fragile aiuta a scoprire che esiste l'altro, il rabbino, Carucci Viterbi, la firma di Walter Vertroni. E poi la legge giusta che spaccò nel nostro paese il divorzio 50 anni dopo la firma di Gian Antonio Stella. Dal Corriere della Sera è il momento del messaggero, il messaggero di Roma, che apre ancora sui provvedimenti economici del governo e su questa sanatoria. Andiamo a leggere. Un piano per cancellare le imposte 2021, la sanatoria al posto dei ristori, dedicata a chi ha subito perdite per la pandemia, via Libera, un fondo da 5,3 miliardi, l'esecutivo pronto a fare nuovo deficit per integrarlo. In taglio centrale, il governo blinda le feste e spostamenti tra regioni vietati. Fino al 10 di gennaio, permessi speciali per i residenti, l'Unione Europea meglio evitare le messe. I nonni e i regali queriti di Natale restano un diritto per tutti i bambini. Sicolo struggente di Mario Aiello. Ancora taglio centrale. Unicredit si cambia, Mustier dice addio MPS, ora è più vicino alla rottura con il CDA per le modifiche al piano, già scattata la ricerca del nuovo capo azienda. Poi intanto condanna a 4 anni, investì allo stadio un tifosoria rivale, per lui scatta l'omicidio stradale. La foto Pugni e sogni sulla sabbia per le 45 pugili palestinesi fuori dal ring di Gaza per il Covid si allenano per il torneo in Kuwait. Andiamo a leggere la prima pagina del messaggero. I droni killer che mettono in imbarazzo anche Biden. Cosa è accaduto? Che un pass-run iraniano Mohsen Fakhrizadeh Mabadi, il padre del nucleare italiano è stato ucciso con un drone, sarebbe stato ucciso con un drone americano pochi giorni fa, anzi no, perdonatemi, con Cassan sulle mani, comandante di questa brigata, sono stato ucciso in un altro pass-run nell'ultime ore con questi droni. Continuiamo a leggere ancora la prima pagina del messaggero. L'agonia del PIB era in astinenza e nessuno l'aiutò, le accuse al medico. Questo è il medico che adesso è indagato per omicidio colposo. Nella prima pagina del messaggero, passiamo alla prima del fatto quotidiano. Si concentrano tutti su questa presa di posizione dell'Unione Europea sulle messe, come se l'Unione Europea come entità stratta, tra l'altro, ce l'avesse con le messe. In realtà, si è visto quest'estate, nonostante il caldo, e quindi il virus avrebbe dovuto soffrire queste condizioni, che riaprire tutto in maniera discriminata, favorire assembramenti di qualsiasi genere, ha portato alla situazione che abbiamo visto nelle ultime settimane, che adesso fortunatamente sta migliorando. Dato che ci avviciniamo all'inverno vero e proprio, forse essere un po' più cauti e rinunciare, per una volta nella vita, a determinate attività, questo pensa l'Europa, quantomeno potrebbe anche non essere un dramma. Andiamo a leggere. Unione Europea contro le messe, vietare quelle di Natale. I piani anticalca, l'Europa funzioni solo in tv e online, il governo invece discute di portarle alle 21. Soliti deliri delle regioni per aprire le piste di sci. Andiamo a vedere di spalla sulla sinistra. Mustier lascia, guerra totale sul regalo MPS, e poi l'assessore a 5 Stelle, siamo cambiati con Emiliano, è bello lavorare. Nuove accusa gli 007, Regeni schiaffa egiziana all'Italia, le prove sono scarse. Leggiamo poi il pusher ucciso da due ragazzini, Dacci la coca, Monza, il diritto di Monza del quale parlavamo anche prima. In taglio centrale, Europa, il Consiglio decide tutto, ma nessuno sa niente. Intanto il MES passa all'Eurocola, gruppo, quest'inchiesta del Fatto Quotidiano, tra 150 gruppi di lavoro, riunioni di funzionari diplomatici, dal massimo organismo europeo, non trapela nulla. Viaggio tra furbate e dossier fiscali, insabbiati. Leggiamo poi in taglio basso, in taglio basso, poliziotti violenti, Macron costretto a fare dietro fronte, deve riscrivere la legge, dopo giorni di protesta in Francia, ancora la regina spietata dei salotti padani, che ispirò a stendare le trame di San Severino. Dal Fatto Quotidiano è il momento della prima pagina del tempo, il tempo di Roma, che prima abbiamo letto, ecco qui, l'Unione Europea contro le messe, adesso il tempo dice, l'Europa vuole umiliare il Papa. Le linee guida dell'Unione Europea e i governi chiedono di chiudere ai fedeli tutte le chiese durante il Natale, tra l'altro non ricordo anche negli ultimi anni questi grandi folle nelle chiese. Nessuna evidenza scientifica è solo prepotenza sui cristiani, mentre su altre necessità si tace. I politici entrano anche in casa, dovete invitare gli stessi ospiti alle tavole del 25 e 31 dicembre. Sembra quasi che qualcuno preferisca, che qualcuno dica fate tutti come vi pare e poi Dio vede. Contro la mancia di Palazzo Chigi, i ristoratori in piazza, sbeffeggiati dal governo, leggiamo ancora, i partiti si tengono stretto il fondo Marchette, la legge di bilancio, il fondo Marchette sarebbe il fondo per i ristori. Saranno cancellate le tasse alle aziende in crisi e le imposte sospese nel 2020. L'intervista a Baglioni si racconta la vita è solo amore, dice Baglioni, che non riconoscevo, non l'avevo riconosciuto subito. Continuiamo con la prima pagina del tempo, il tempo di Osho. Giuseppi recluta altri consulenti. Siamo a 750, adesso dopo il taglio dei parlamentari, abbiamo più consulenti che parlamentari, questo è veramente incredibile. E qui Conte dice a Gualtieri, qua sono più i sordi che spennevano per i consulenti che quelli che c'entrano con recovery. E potrebbe anche essere un'ipotesi più che credibile questa. Si dimette il capo dei Vigili Urbani di Roma, il comandante Napoli lascia l'interim a Contrastato e Casamonica, ma la Raggi se ne frega i servizi di Repo. Di Roma finisce la Corte dei Conti, sprechi e appalti sospetti e poi stabili e abbandonati, una città fantasma a Roma, 161 edifici nel degrado. Noi passiamo alla prima pagina ancora con questo argomento che viene trattato da tutti. L'Europa vieta la messa, Bruxelles spegne le feste verso il divieto di cerimonie religiose vanno sostituite con iniziativa online e l'Italia spalanca le porte agli immigrati. Perché la Camera ha approvato con voto di fiducia il decreto che riapre le porte all'invasione. vediamo sulla destra le analisi Delirio a Giuseppi è lì grazie a noi dice Augusto Minzolini e poi i Dem rischiano il vicolo cieco. Leggiamo sulla destra ancora Passo indietro di Mustier terremoto dentro Unicredit per il negoziato con MPS e poi il reddito Movimento 5 Stelle troppe truffe e navigator inutili. Leggiamo Diego era violento con le donne la protesta della calciatrice rifiutato il minuto di silenzio accade in Spagna aveva preavvertito le sue compagne questa calciatrice spagnola Paola Dapegna poi che triste regalare a Veltroni il match della mano De Dios scrive Tony Damascelli vediamo poi gli editoriali sulla sinistra negozi scuola messi il governo indeciso su tutto e infine Alessandro Sallusti firma questo pezzo Conte tira e molla nel momento della prima pagina di Libero allora qui devo dire che Libero spesso scadena polemiche con i suoi titoli forti molto un political qui fa una considerazione che effettivamente è inattaccabile il governo apre i negozi poi si secca se ci andiamo e hanno ragione non ci si può lamentare della calca come l'articolo abbiamo letto prima le scuole sono chiuse e i negozi sono aperi e vabbè tecnici e politici scandalizzati perché nelle città diventate arancioni la gente uscita per fare spese ma è lo Stato di aver dato il via libera e hanno ragione proposta folle dell'Unione Europea cancelliamo le messe di Natale le contraddizioni del virus andiamo a leggere in taglio centrale lo sport è gattuso ringhia napoletani imprudenti il mister ricordate Maradona ma con la mascherina presidente Verna 20.000 leghe sotto la grammatica il capo dei giornalisti per capire chi sia bisogna aprire il suo blog digitare il suo nome a parere a questo titolo che si è scelto da sé Carlo Verna giornalista e uomo ieri è finita al centro delle polemiche perché è scritto con qualcosa con un po' di errori ecco famiglia assente figlia lo sbando lo stupro viene da sé festini alla coca questa la firma di Azzurra Barbuto che insomma che la prende con le famiglie a quanto pare vabbè questi soliti discorsi sullo stupro lo stupro per dire a questa collega viene dalle persone che stuprano esistono gli stupratori altrimenti non esisterebbe lo stupro mi sembra piuttosto semplice lineare gli assassini esistono perché ci sono persone che uccidono un omicidio esiste perché c'è un assassino lo stupro c'è perché c'è un furto c'è perché c'è un ladro mi sembra molto semplice nessuno si va a cercare certe cose il numero degli sbarchi è triplicato arriva la legge per aprire i porti che sono andiamo a leggere ancora il premio ora da consulenti per assemblamento di consiglieri a Palazzo Chigi allora questa era l'ultima prima pagina che vi volevo proporre quest'oggi ma come sempre ovviamente prima di salutarci vi voglio ricordare tutto quello che riguarda l'informazione di Cusano TV Italia e di Radio Cusano Campus ovvero il nostro sito di riferimento per quanto concerne l'informazione che è radiocusano campus punto it il sito dell'informazione a chilometro zero ci vedete qui in tv con i nostri programmi dei quali siamo autori curiamo la parte dei contributi audio gli ospiti i testi siamo autori conduttori facciamo tutto lo stesso facciamo in radio e quello che facciamo sempre noi vedete qui e ci ascoltate in radio in tv poi lo riportiamo sul sito radio cusano campus punto it riportando le interviste che vengono realizzate o gli altri approfondimenti che vedete in tutti i palinsesti sia di Cusano TV che di Radio Cusano Campus ad esempio vi suggerisco questo approfondimento con l'intervista all'esponente del PD Orfini che ha presentato un emendamento per inserire una patrimoniale ed è tutto per quanto mi riguarda io ringrazio alle luci microfono scenografia parte tecnica e regia Racheia Beianne un saluto da sottoscritto Matteo Torrioli restate con noi perché qui l'informazione non si ferma mai 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 non si ferma mai